E credete al Vangelo perché Cristo vive, Cristo vive, le suore non sono bibliche, questa parola non è biblica, non c'è scritto da nessuna parte che esiste la suora, che esiste il Papa, che esiste il Papa, che esiste il Gesù, sono Cristo salvo. Rappedetevi e credete al Vangelo, rappedetevi dalla vostra pedofilia, rappedetevi dai vostri idoli, dai vostri altari, il secondo comandamento dice, se non conosce la verità, non farti né scultura, né immaginatura, per essere il nome dell'Evolo e sotto Cielo, non ti mostrare, perché io, il tuo Dio, sono un Dio geloso, Unissimo, il dignità dei padri su tutti, il mondo dovrebbe da poco partire di quello che state facendo, perché non state preguitando la verità, ma state intendo che le faccio la partita. Rappedetevi, oggi è ancora tempo di rappedersi, e si chiede le persone, si chiede le persone per le nostre internazioni, e di andare per il mondo, a predicare le mangiere, a chiamare che Cristo vive, che Gesù è vivente, Non state nel quattro luglio, il Papa non è salito sulla croce, i pregi non sono saliti sulla croce, Cristo è saluto, Gesù ha detto, andate per il mondo, andate le mangiere, io ho detto la pizzo, Gesù c'è il suo internazioni, rappedetevi, il regno del Cielo e tutti i figli. Alleluia! Non avete risposte, per questo dovete scappare, non avete risposte, per questo dovete scappare, perché la vostra testa non è reale, state vivendo nella mezzogna, il Vaticano sarà giudicato, i preti se non si rappedono saranno giudicati, la grande prostituta, la Babilonia spirituale, che siede sopra molte alte, non sarà giù ritrovata, il giudizio di Dio farà sì che sia accettata interamente, nello stagno di sua perdizione.